È meglio tardi che mai, sono contento perché circa un mese fa era stata lanciata attraverso l'interpellanza, diciamo, la possibilità di allungare la vita motturna a Livorno e il fatto che ora cominciano ad essere certi sostenitori che noi siamo fatti positivi. Io avrei sperato che ci fossero anche qui non prima, però è meglio tardi che mai. Importante anche perché noi abbiamo bisogno a Livorno di rilanciare quello che è un pochino il rapporto fra commercianti, ragazzi e voglia anche di divertirsi la sera, che ad ora è un po' bloccata fino a luna di notte, che credo sia riduttivo. La nostra costa consiste semplicemente in dare la possibilità naturalmente con un controllo e una sicurezza da parte dei vigili umani rafforzata, quindi dovremmo pensare attraverso un finanziamento da parte dell'amministrazione sugli straordinari dei vigili umani perché la città sia controllata, aumentare l'orario di apertura dei locali in più, quindi fino alle 2 durante la settimana e alle 3 in fine settimana. Questo naturalmente per il periodo estivo, per il periodo invernale, per vari visitati rispetto anche a quelle che sono le esigenze della città. Comunque, aumento degli orari e sicurezza da parte dei vigili urbani perché sennò si rischia poi diventi una zona franca o un cosiddetto tutto buono.